Lara, ho ricevuto l'atto notorio che conferma l'esistenza della tomba di Amelia e la scoperta di una cripta funeraria all'interno del maniero. Non riesco a comprendere perché tuo padre abbia cercato di nascondere la morte di tua madre alla sua famiglia, ma ad ogni modo non posso negare che ogni mio diritto legale sulla proprietà è ora da considerarsi nullo. Il maniero Croft e i restanti beni di tuo padre sono tuoi da ora e per sempre e ne farai ciò che vorrai. Nel caso in cui dovessi necessitare assistenza per la gestione dell'immobile, se lo riterrai opportuno, spero che ti rivolgerai a me. Cordialmente, tuo zio. Mi sono concentrata talmente tanto sull'affrontare mio zio, sul tenere le sue grinfie lontane da questo maniero, che non mi sono mai accorta del valore che ha per me questo posto. Da quando sono qui, sento la presenza di mia madre e mio padre. Sento l'intera storia della mia famiglia e le radici profonde che abbiamo in questo luogo. Voglio onorare i miei genitori, tutti i miei antenati. La famiglia Croft forse ormai è distrutta, ma io riscatterò il nostro nome e la nostra casa.